Un uomo deve solo dire a una donna la verità senza parlarle. È come un segnale che mandi e la donna lo recepisce subito. E qual è la verità? Che darle un bacio mi avrebbe cambiato la vita per sempre. Wow, ed era vero per ogni ragazza che hai baciato? Mi veniva naturale quando ero ragazzino e non avevo principi morali pensare che ogni ragazza che avrei avuto la fortuna di baciare mi avrebbe cambiato la vita per sempre. E adesso? Adesso mando il segnale solo quando credo che quella sia la donna che la cambierà davvero.